Un weekend ricco di attività culturali e particolarmente interessante quello che si appresta a vivere il ridente paese di Rutino in Cilento in occasione dei tradizionali festeggiamenti di San Matteo. Dal 9 al 12 maggio il comune cilentano retto dal primo cittadino Giuseppe Rotolo ha programmato l'evento Rievocazione Storica al Borgo, il miracolo dell'acqua di San Matteo. Infatti giovedì 9 maggio alle ore 18 presso la fontana San Matteo ci sarà l'accoglienza in forma solenne delle reliquie di San Matteo in arrivo da Salerno. A seguire l'apertura della fontana riqualificata con la presentazione dei lavori effettuati, ovvero le raffigurazioni della traslazione del santo sui dieci archi prospicenti la fontana con i disegni e direzione artistica dell'architetto Renaldo Fasanaro e inoltre la presentazione dell'originaria fontana che era chiusa da un muro da oltre 100 anni. Parteciperanno all'evento il cardinale Renato Raffaele Martino, protodiacono di Santa Romana Chiesa, il vescovo di Vallo della Lucania, sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Corrado Matera, assessore regionale al turismo e beni culturali e vari sindaci del territorio. Venerdì 10 maggio dalle ore 9 è prevista la visita delle scuole alla fontana dove incontreranno una delle artiste che ha dipinto gli archi di San Matteo. La stessa realizzerà dal vivo un lavoro succompensato, illustrando ai ragazzi la tecnica utilizzata. Seguirà la catechesi in chiesa su San Matteo a cura di Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo di Salerno. Inserata alle ore 20 e 30 al via la grande rievocazione storica del miracolo dell'acqua a cura di Gaetano Stella, dove oltre 60 attori presenteranno la rievocazione del miracolo dell'acqua avvenuta a Rutino nell'anno 954 durante la traslazione delle reliquie del Santo. Sarà presente il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Sabato 11 maggio farà tappa a Rutino il Tg itinerante di Rai 3 con il giornalista Rino Genovese e domenica 12 la festa patronale.